Cofriore, nuovo consigliere comunale di Padova, il primo consiglio si fa all'Arcella, un quartiere importante per la città ma soprattutto degradato, un commento? Io sono molto contento che si faccia all'Arcella visto che ci ho abitato per 23 anni, in questo palazzetto ci ho giocato, quindi credo che la scelta sia stata giusta. L'importante è che non sia solamente una passerella ma che si cominci a considerare le esigenze del quartiere, da questo punto di vista anche noi abbiamo tutta una serie di cose che abbiamo intenzione di portare dentro il consiglio comunale proprio per questo quartiere.